Salve! Avete mai avuto la sensazione che qualcuno vi stesse osservando? Non sbagliavate? Voglio parlarvi di un pericolo che minaccia la nostra vita su questo pianeta, le papere. I loro occhi sono negli angoli più bui, sotto il letto, dietro ogni specchio. Il loro obiettivo? La colonizzazione del pianeta Terra. Aiutateci a contrastarle. È una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini del pianeta Terra.